ragazzi prepariamo gli gnocchi alla bava la bava non è altro che la besciamella un po più morbida con l'aggiunta di colgonzola è un piatto milanese in questo periodo per milano tutti questi problemi facciamo un omaggio alla città di milano gli gnocchi li facciamo dopo sono gnocchi di patate le indicazioni trovate sul libro ma mi piaceva farvi vedere esattamente come si fanno vista della lezione pratica probabilmente la salteremo intanto facciamo la besciamella perché come molti sanno non tutti ancora ricordano bene e allora abbiamo messo il latte a bollire le dosi sono sempre quelle indicate come le altre volte per un litro di latte in questo caso ne abbiamo due abbiamo il burro anziché 60 grammi di farina ne utilizziamo 50 45 per litro perché appunto la pesciamella deve essere più fuori più morbida detta poi bava e in questo nostro burro mettiamo la stessa quantità di farina eccola qua c'è una stessa quantità di farina la frusta e quindi che pensi che stiamo usando siamo usati due pentole stiamo usando una frusta ho usato una bilancia per pesare e adesso io metto il ru nel latte ormai bollente ok si può fare anche al contrario però questa è una quantità abbastanza importante in questo pentolino non ci starebbe e allora io faccio uscire tutto il mio ru e giro la besciamella intanto che arriva il bollore giro sempre bene così evito che si formano i crumi aggiungo il sale vi ricordatevi io non faccio pesare 11 grammi per litro di latte e quindi in questo caso ho messo 22 grammi e poi c'è una spezia della noce moscata a scuola l'abbiamo sempre vista già grattugiata e a casa mia io ho quella da grattugiare che si vende anche da grattugiare e quindi c'è la sua piccola grattugia con la noce moscata e io la vado ad aggiungere alla mia pesciamella ok è una spezia mi dà una bella nota speziata appunto di noce moscata ecco e appena bolle lasciamo bollire due o tre minuti e la pesciamella è però cosa abbiamo detto che la pesciamella è una salsa madre aiuta anche salte salse adesso voi ne vedete qui tanta perché io poi preparo anche una lasagna e quindi la direzione anche per la lasagna ma noi in una piccola quantità di pesciamella metteremo quel colgonsola facciamo sciogliere tutto e quella diventa la bava la bava che condirà i nostri gnocchi io che gli gnocchi che farò subito dopo tengo buona la ricetta del libro dove all'inizio negli ingredienti non mette le uova ma poi nelle varianti scrive che una variante può essere appunto allora la nostra pesciamella io una parte la tolgo per fare la bava degli gnocchi la tolgo già è più che sufficiente perché non ne serve tantissima ok in questa bava mettiamo la pesciamella di qua così finisce di bollire di bollire mettiamo la bava qua e in questa bava ci metto dentro il buon consola ecco qua e la nostra salsa è diventata sulla salsa alla bava tipica di milano questa poi la mettiamo in padella e facciamo saltare gli gnocchi ok io vi chiederò anche nella lezione nel mio quando preparò la mia piccola dispensa vi chiederò anche quante tipologie di patate esistono perché per fare gli gnocchi per esempio ci sono delle patate che devono avere delle particolari qualità ci sono le patate con buccia rossa le patate a pasta gialla le patate a pasta bianca e voi dovrete spiegarmi per scritto quali sono le tipologie di patate per cosa si utilizzano le patate per esempio quella pasta bianca per gli gnocchi ok perfetto guardate qua ancora con il console quasi sciolto la nostra pesciamella poi è pronta come vedete sempre molto semplice ed abbiamo preparato la pesciamella che io utilizzerò tra poco per fare delle lasagne che servono a casa mia e poi questa pesciamella l'ho trasformata in bava con la semplice aggiunta di gorgonzola perfetto adesso l'invito è quello che voi dovete provare a casa vostra magari anziché i gnocchi potete condirci anche dei maccheroncini li potete passare anche in forno per esempio dopo che ne avete conditi li passate in forno con un po di formaggio grattugiato sopra un po come abbiamo fatto con gli gnocchi di simbolino va bene subito dopo passiamo alla preparazione degli gnocchi grazie per la preparazione degli gnocchi il primo passaggio è far bullire le patate con la buccia partendo dall'acqua fredda quindi io ho lavato le patate le ho pesate un chilo di patate acqua fredda a bollire con un po di sale quando le patate sono cotte le scoliamo e le peliamo questo momento durerà circa 30 40 minuti dipende da quanto sono grande le patate allora ragazzi le patate sono pollite le facciamo raffreddare 10 minuti io ho già ne ho pelate un po perché altrimenti non riusciamo a toccarle con le mani 10 minuti anche 15 minuti non è un problema l'importante che restano calde non sono del tutto fredde una volta che le abbiamo pelate così voi vedete già sul tavolo che io ho preparato un po tutti gli ingredienti che servono adesso passiamo al secondo passaggio eccolo qua io vedete cosa faccio le apro un po così tendono a raffreddare prima e con questo sistema qua con lo schiacciapatate su un piano di lavoro che a casa mia è un tagliere che apposta per fare la pasta gli impasti gli gnocchi e schiaccio le patate con lo schiacciapatate mi raccomando non potete farlo col passa verdure perché la consistenza delle patate poi resterebbe troppo pollosa si fa proprio così sul tavolo vedete così pian pianino non ci vuole fretta e ovvio che io sto facendo un chilo di patate ma voi se volete provare a iniziare potete provare a iniziare soltanto con mezzo chilo così fate prima e fate la vostra prova così si schiacciano le patate vedete e poi andiamo ad incorporare gli altri ingredienti quindi tutto il chilo di patate è stato passato con passapatate vedete lo schiacciato un po e mettiamo la farina adesso cominciamo con dei piccoli trucchi di cucina il vostro libro per un chilo di patate prevede 250 grammi di farina però 250 grammi di farina grammi di farina, io vi dico che è il massimo della farina che dobbiamo mettere, quindi come vedete io non la metto tutta, intanto aspetto, magari basta già questa, mettiamo un po' di sale, così, mettiamo solo la noce poscata come vi ho fatto vedere con la besciamella, questa qui da grattugiare, non grattugiata, eccola qui, serve una spezia che aiuta e che in questi casi, come già abbiamo fatto con gli gnocchi alla menoville con gli gnocchi di semolino, come abbiamo fatto l'anno scorso nelle crocchette di patate, nelle patate d'utese, è una spezia che si utilizza molto in questi casi, perfetto, abbiamo messo il sale, la noce poscata, la farina, sul vostro libro, nell'alternativa prevede il tuorlo d'uovo o quelle uova intere, io a casa per non fare spreco, metto anche l'uovo intero e inizio a impastare gli gnocchi, mi raccomando, vedete che io mi aiuto con una piccola spatolina, si può fare anche solo con le mani, però deve risultare un impasto omogeneo, piano piano, in mezzo magari si farà un po' di fatica, ecco perché voglio lasciare un'altra farina, così vi posso aiutare con l'altra farina, per non far appiccicare tutto alle mani, vedete, perfetto, ci siamo quasi, nostro impasto, vedete, ok, perfetto, così, lo sento ancora troppo morbido, quindi vado ad aggiungere un po' di farina, soprattutto sul piano di lavoro, in modo che si asciuga il piano di lavoro, ecco qua, io penso che ci siamo, il nostro impasto degli gnocchi praticamente è pronto, ok, puliamo le mani, ok, come abbiamo sempre fatto da scuola quando facciamo gli impasti, a questo punto posso andare, vediamo un po', con le mani, ok, perfetto, vedete, l'impasto è pronto, lo lascio riposare qui, sul piatto leggermente infarnato, pulisco il mio piano di lavoro, e adesso siamo pronti per l'ultimo passaggio, cioè fare gli gnocchi, poi questo qui verrà lavorato di nuovo, quindi lo posso aggiungerlo, attenzione, quando lavoriamo gli gnocchi si usa la farina, guardate, 250 grammi, io alla fine non le ho utilizzate tutti, evidentemente queste patate erano molto asciutte, e andava molto bene a fare gli gnocchi, alle volte c'era tutta la farina di 150 grammi, alle volte c'era anche 300 grammi, in questo caso abbiamo visto che così basta, quindi fra poco cominciamo a fare gli gnocchi, lasciamo riposare l'impasto qualche minuto. Allora, io ne ho fatti già un po', vedete, stacco un pezzo di impasto, lo metto sul mio piano di lavoro con un po' di farina, così, senza esagerare, la farina ci vuole, bagno anche la mia spatolina e la farina, così è sempre più utile avere tutto abbastanza infernata. Poi gli gnocchi possono essere di varia misura, ovviamente io li faccio un po' grossi, così li faccio prima, non necessariamente bisogna rigarli sul ribo della forchetta o sulla grattugia, noi lo facciamo e tagli una forma più legata, però lo gnocco può essere finito anche solo così. Oppure, dopo che li abbiamo fatti, adesso io sono un po' veloce, però voi la prima volta li fate con calma, vedete che non si attacca niente perché io ho passato tutto nella farina. Una volta che sono pronti, sempre con l'aiuto di un po' di farina, li passiamo sul ribo della forchetta, non dovete fare una pressione troppo esagerata perché sennò si appiccica tutto, è la giusta pressione, la prima volta magari sbaglierete un po', magari ci vorrà un po' di tempo per imparare, però se voi fate la pressione leggera, così siete vedete, sempre in un po' di farina, sempre in un po' di farina, così, così, vedete io ne ho fatti già un po', adesso finisco di fare tutti questi e alla fine facciamo la cottura. Vi ricordate che abbiamo fatto anche la bava, cioè una besciamella un pochino più morbida con dentro il gorgonzola, piatto di Milano tra l'altro, in questi giorni aiutiamo ben detto già a Milano, lo ricordiamo almeno, ma adesso bisogna ricordare anche Novara però, Novara, Percelli, allora, ecco qua, adesso facciamo anche un altro, adesso sposto questi, così, vedete che la farina fa un po' da parole, soprattutto vedete che quei famosi 250 grammi sono ancora qua, perché io non li ho utilizzati tutti, facciamo un altro pezzo, così, vedete questo anche un bel pezzo, piano sempre leggermente infarinato, anche qui non fate troppo pressione, scolpete tutto, invece con calma, pian pianino, anche un pezzo alla volta, ripeto, possono essere fatti anche più sottili, possono essere anche lasciati solo, così, come gnocchetti, così, però io voglio passare tutto il soggetto della forchetta, ok, adesso otteniamo ancora un pochino, perfetto, ok, ho la forchetta, poca farina, ecco qua, la pressione, come ho detto, non troppo forte, adesso appiccica tutto, adesso ci sarà un'acqua che bolle, naturalmente io ho già provveduto, cosa dovreste fare anche voi a casa, e quello che vi chiedo sempre anche a scuola, di arrivare pronti al momento del servizio, per arrivare pronti al momento del servizio, vuol dire che lì ho già scaldato la mia bava, c'è la mia pentola con l'acqua sul forno, e non devo far altro che cuocere gli gnocchi, gli gnocchi due minuti al momento di venire a galla sono pronti, l'acqua è sempre salata, però ricordiamo adesso anche gli utensili che abbiamo utilizzato per fare gli gnocchi, la pentola per bollire l'acqua, lo scolapasta, la bacinella, un tagliere, ma noi l'avremmo usato a scuola un piano di lavoro, lo schiacciapatate, coltello, forchetta, spatola, un vassoio da appoggiare dentro l'impasto, ci siamo eh, siamo quasi pronti per mangiare, acqua bollente, a differenza delle patate, acqua fredda, bollire, acqua bollente, mettiamo su una giratina, aspettiamo che gli gnocchi vengono a galla, quando sono a galla gli gnocchi sono pronti, ci vorranno 2-3 minuti, guardate la bava, vi ricordate? Eccola qua, la nostra besciamella, che è piuttosto liquida, con il gorgonzola, e adesso c'entra anche un po' di acqua di cottura, ovviamente, abbiamo cercato di scolarli per bene, io lo faccio direttamente in questa casseruola per fare prima, però, in realtà, anche i broscalati proprio bene, eh, aspettiamo che vengono a galla, gli gnocchi possono avere anche una precoltura, precoltura vuol dire che io li faccio cuocere, li scolo, li raffreddo, anche nell'abbattitore, e li metto un filo d'olio, in quel caso sono pronti per la cottura, si possono saltare direttamente in padella, oppure scaldarli 2 minuti e condirli a piacere. Un altro piatto famoso con gli gnocchi, sono gli gnocchi alla sorrentina, cioè gli gnocchi conditi con la salsa di pomodoro, un po' di mozzarella e di basilico e poi passati in forno a cretinare. Guardate come salvano, praticamente comincio ad essere pronti, 1-2 minuti, adesso io li metto qui, nella salsa che ho scaldato già, ecco qua, comincio a scolare i primi gnocchi subito a galla, li faccio scolare bene 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 in modo da poter mettere la miglior quantità di acqua nel, ripeto, per non stare qui a casa a fare troppi macelli, vedete qua, basta fare con una schiumarola, un po' di attenzione, sono venuti tutti a gallo ormai, ecco qua. Poi magari prendiamo anche un po' di grana, adesso lo mettiamo solo per decorare un po' il piatto, ecco qua, ci sono gli ultimi, sono quelli che non si fa più fatica a prendere, gli gnocchi sono tutti, qua scolare gli gnocchi, appoggiare qui, ecco qui, il mio fuoco acceso, si, ed ecco gli gnocchi e la bava, vedete come sono bavosi, non sono completamente asciutti, e adesso, una volta che l'abbiamo fatto insaporire, prendiamo il nostro piatto e facciamo il piatto, eccoli qua, gli gnocchi e la bava, saltare in padella vuol dire lasciarli uno, due minuti, non tantissimo, e gli gnocchi sono tutti, ecco qua, fanno così, prendiamo il nostro cucchiaio, piatto nero così, e faccio di più il colore degli gnocchi, una porzione non troppo grande, così, ok, e se riusciamo, ho sporcato un po' il piatto, facciamo anche un pochino di disegno bianco in un piatto, così, che richiama la sua prima col piatto, ecco qua, gli gnocchi alla bava sono pronti, provateci anche voi, domani magari preparo una lezione teorica, come vi avevo detto, sulle cotture, e cerchiamo di sopperire alla mancanza della scuola. Buona giornata e buon appetito!